Buongiorno a tutti, io sono sempre VictorLaslo88, prima di iniziare vorrei avvertirvi del fatto che è ripartito in pianta stabile il mio canale Telegram che si chiama Offerte Home Video & More by VictorLaslo88, dove ogni giorno vengono caricate parecchie offerte interessanti riguardanti l'home video, i videogiochi, le periferiche per il gaming, cuffie, mouse, tastiere e quant'altro, attrezzatura per il video making, fumetti, libri e anche action figure e statue, quindi se dovesse interessarvi trovate il link in descrizione e vi avviso che sono tutte offerte reali e molto molto interessanti e in ogni post trovate anche per l'appunto la variazione dell'offerta, vi spiega se è la migliore offerta in quel momento, insomma è una cosa molto dettagliata, quindi se dovesse interessarvi vi consiglio di dare un'occhiata, poi vi ricordo come al solito che è il link riguardante per l'appunto l'affiliazione con Disney+, se lo cliccate vi rimanda alla home page del sito, se volete fare usando questo link la settimana di prova gratuito di Disney+, qualora non l'aveste ancora fatta, potete farlo, io ve lo consiglio perché Disney+, a me sta piacendo molto e poi vi ricordo che se avete scritto il link personalizzato che vi rimanda alla home page del sito di Pampling trovate moltissime magliette a 9,90€ e vi danno anche un paio di calze random, ma se usate il mio codice VILASZLO avrete il 20% di sconto e quindi la maglietta non vi costa a 9,90€ ma 8€, quindi direi che è un prezzo molto vantaggioso, sapete che le magliette sono fantastiche con queste stampe a tema nerd bellissime, quindi se dovesse interessarvi trovate il link in descrizione, quindi bando alle cianci e iniziamo subito con il video di oggi. Allora, ho capito che vi stanno piacendo tantissimo le classifiche e non vorrei farne più di una settimana, ma c'è una tipologia di video che può sembrare simile ma di fatto non lo è, che ogni tanto voglio portare qui sul canale, perché noto che vi piace quando parlo in un video solo di più film e quindi oggi vi voglio parlare di quelli che per me sono i peggiori cinecomic della storia del cinema. Non è una classifica perché non li metterò in ordine dal peggiore al peggiore veramente schifo merda e neanche in ordine di uscita. È proprio una carrellata di titoli su cui spenderò qualche minuto per spiegarvi perché, secondo me, sono orrendi, presi come li trovavo, come mi venivano in mente. Quindi sono in ordine random e sono tutti, secondo me, brutti allo stesso modo. E ho voluto fare questo video perché era un po' che mi frullava in testa e oggi mi sentivo ispirato. Quindi iniziamo con il primo film di cui voglio parlare che è Lanterna Verde. Allora, Lanterna Verde uscì nel 2011 e non venne particolarmente apprezzato dal pubblico, anzi è ricordato tuttora come uno dei peggiori film tratti da un fumetto che si siano mai visti. E io so che in realtà molti non lo considerano così brutto. Se si guarda senza sapere chi sia il personaggio, può risultare un filmetto magari divertente. Per me però neanche così si riesce a salvare perché ha innanzitutto una storia che è abbastanza stupida. Scene che sono allucinanti e soprattutto, per l'amor del cielo, il costume in CGI è fatto veramente con il buco del culo. Altri film hanno utilizzato questo espediente, ad esempio Henry Cavill nei film su Superman, in cui compare il suo Superman, ha il costume in CGI ma è realizzato giusto un pelo meglio rispetto a quello che indossava Ryan Reynolds all'epoca. Peraltro Reynolds di base si prende molto in giro su questo fatto perché all'epoca era meno conosciuto di adesso ma comunque piuttosto amato e era la sua grande occasione. Tant'è vero che nel secondo film di Deadpool vediamo Ryan Reynolds nel momento in cui sta leggendo la sceneggiatura che dice benvenuto nella Serie A e poi Deadpool gli spara male dicendo che sta sistemando le continuity. Quindi Reynolds ci scherza tanto sopra, c'era Black Lively che poi sarebbe diventata sua moglie, non mi ricordo se era già sua moglie all'epoca, forse l'ha conosciuta addirittura sul set di quel film. Sta di fatto che è veramente orripilante. Io ero arrivato alla fine sudando freddo perché ero lì che dicevo vi prego fate finire questa fottuta agonia di film. Per me è proprio brutto, ma anche logisticamente non ha niente di che. C'è questa CGI ingombrantissima e pezzotta. Non pezzotta nel senso che sia orripilante in generale. Semplicemente non è la CGI che ci si aspetterebbe da un film con un budget così alto. Poi per amore del cielo l'unica cosa buona era senza dubbio sinestro interpretato da Mark Strong. Ma al di là di quello c'era veramente poco. Anche le scene d'azione non erano niente di che. Soprattutto il potere di Al Jordan, ovvero di poter fondamentalmente creare dal nulla ciò che vuole, grazie alla sua immaginazione, al potere che può utilizzare, sono abbastanza idiote. Cioè la scena in cui crea i due gezzolo perché è un pilota per combattere contro il nemico è qualcosa di idiota, veramente. Posto che se io fossi in possesso di quel potere farei come mi affirma il fatto di sparare dei raggi dalle mani a forma di cazzo gigante. Perché sarebbe comunque un tratto distintivo. Mi chiamerebbero Dildo Man. Quindi è un film che secondo me davvero no. Cioè io ogni volta che lo becco, magari le poche volte che accendo la televisione è capitato, l'avevo beccato, ho iniziato a urlare No! No! Cioè stavo proprio male, l'attacco di panico. Per cui per me Green Lantern è stato un floppone proprio a livello di idea. Era ancora il periodo in cui il Marvel Cinematic Universe si stava formando, si capiva che i supereroi avrebbero potuto avere un certo futuro al cinema e allora la DC ha voluto entrare in questo meccanismo dicendo oh facciamo i film sull'antenna verde perché avevano capito che al pubblico sarebbe piaciuto ma non hanno saputo gestirlo al meglio. Poi soprattutto tutta la questione di Parallax era accennata, io l'avrei resa al centro veramente di tutto, ok? Che era un origin story ma porca puttana, si poteva fare decisamente di meglio. Si prosegue con due film che sono complementari, Ghost Rider e Ghost Rider Spirito di Vendetta. Allora, il secondo diretto a Neville Dine & Taylor che sono gli stessi di Crank e di Game, quello con Gerard Butler, è veramente brutto. Cioè è più brutto dell'altro. L'altro apparteneva a quel periodo pre-2010 in cui diciamo che c'erano certi film stand-alone che erano andati bene come ad esempio lo Spider-Man di Raimi, gli X-Men, sì che erano saghe però comunque non erano inseriti ancora in un universo condiviso, non c'era ancora quell'idea all'epoca, e quindi tutte le case di produzione che per un qualche fortuito e improvviso incrocio del destino si ritrovavano con i diritti di sfruttamento o di qualche supereroe magari minore cercavano di per l'appunto farli fruttare ma ovviamente non ci riuscivano perché uno non c'era ancora la mentalità, due i budget stanziati per film di quel tipo erano abbastanza bassi e ne venivano fuori dei b-movie terrificanti. Il primo si lascia magari guardare ma per me è veramente bruttarello, devo essere sincero, e già io non sopporto Nicolas Cage, peraltro questo film ha generato la battuta che perseguiterà per sempre Nicolas Cage che è, oh ma guarda recita meglio quando ha il teschio in faccia, cioè capito, è più espressivo quando diventa effettivamente il Ghost Rider con il teschio in fiamme, posto che in entrambi i film la CGI è qualcosa di orripilante, nel secondo forse c'era qualcosina di un minimo migliore ma neanche tanto. Il primo quantomeno aveva una diciamo storia minimo accattivante ma lo dico proprio in maniera aleatoria, accattivante per modo di dire per il tipo di film che era, però non è che fosse niente di che e poi soprattutto Nicolas Cage volle fortemente interpretare Ghost Rider perché lui era un grande fan del fumetto, tant'è vero che nelle scene in cui era torso nudo dovettero ricoprire con il make-up il tatuaggio del Ghost Rider che lui ha dietro alla spalla. Per cui era infognato, io mi ricorderò ancora la prima scena di trasformazione del primo film di lui che sente la pelle bruciare, va al lavandino per sciacquarsi la faccia, lo vediamo scomparire in quadratura e poi torna su e voceva che cazzo ridi? Cioè Nicolas, che cazzo? Perché Johnny Blaze in quel momento ride? Ma cosa cazzo c'è da ridere? Ti sta andando a fuoco la faccia, non sai neanche perché c'è. Per quanto ne può sapere lui in quel momento sta per morire di autocombustione. Che cazzo ridi? Peraltro con questa CGI per fargli le ferite, terrificante. Io la prima volta che lo vedi pensai ma cosa cazzo sto guardando? Ma veramente, era proprio un film fatto tanto per, ma non mi capacito del perché abbiano realizzato il secondo neanche come seguito vero e proprio, come una sorta di reboot che non tiene realmente conto dei fatti accaduti nel film precedente, tant'è vero che il diavolo era interpretato da un altro attore, tra l'altro, e soprattutto i dialoghi erano terribili, le scenerazioni erano incasinatissime, mi dispiace perché Neville Dana Taylor con i Crank, per quanto siano dei film ignoranti, avevano fatto un lavoro simpatico, erano film che non si prendevano sul serio, e soprattutto c'è la scena di lui che piscia fiamme, ok? Che è una scena completamente decontestualizzata, c'è lui che sta parlando col bambino, il bambino dice ma com'è essere ghost rider? Beh, ci sono gli dati positivi, e vedi lui che piscia fiamme, c'è questa scena che compare come se lui stesse pensando a se stesso che piscia fiamme la gioia dei pompieri proprio, quindi non lo so perché abbiano deciso di realizzare un secondo film, e di farlo così male tra l'altro, perché fare peggio del primo, richiedeva un impegno specifico da parte di chiunque ci avesse lavorato, ma Neville Dana Taylor ce l'hanno fatta, io penso che quel film gli abbia distrutto le carriere, perché altrimenti non si spiega, realmente è una delle cose più becele che abbia mai visto in un film, poi il film fa cagare, c'è Nicolas Cage, per me è come approdare all'inferno per due ore, io immagino l'inferno come un'eternità passata, legata ad una poltroncina con gli orpelli in stile arancia meccanica che mi aprono gli occhi, mentre guardo in loop la scena di lui che piscia fiamme, cioè per me questa è proprio la descrizione dell'inferno personale che potrei avere una volta passato a miglior vita, e alla sola idea impallidisco, perché un'eternità così farebbe impazzire chiunque, per cui se stai ascoltando per favore anche meno, quindi no, sono qualcosa di terrificante, proseguiamo con Daredevil, allora, allora, con calma, a me va bene tutto, posso capire che a qualcuno si è piaciuto, non è che io giudico chi lo ha apprezzato, però vi chiedo, ma voi quando l'avete visto? Perché se l'avete visto da bambini, posso capire, è uno di quei film orribili, che però non riuscite a giudicare severamente, perché fanno parte della vostra formazione, della vostra infanzia, magari eravate ragazzini, io avevo credo 14 anni quando vi dico il film, e lo stesso ho ancora gli incubi, se ci ripensola, a parte il fatto che scelsero Ben Affleck, che comunque già all'epoca aveva un certo successo, misero dentro Jennifer Garner a interpretare Electra, lei era famosa per la serie Alias, quindi poteva essere la sua grande occasione, anche qua, forti del successo del primo Spider-Man di Raimi, pensarono, wow, ma anche noi abbiamo i diritti di sfruttamento per un fumetto, cazzo, ma perché non facciamo Daredevil? Solo che ovviamente il budget stanziato non era quello stanziato per Spider-Man, che era di Sony, e se non sbaglio Daredevil, non vorrei dire una cazzata, ma doveva essere di Fox, Daredevil, non mi ricordo, comunque non mi pare fosse Sony, e allora decisero di mettere in piedi questa cazzata, peraltro misero, nel ruolo di Michael Clark, nel ruolo di Kingpin, Michael Clark Duncan, ora, credo che lo fecero semplicemente perché non volevano realizzare Kingpin, che nei fumetti è un colosso gigantesco, in CGI, perché figurati, hanno ridotto a minimo la computer grafica proprio perché sapevano che era una merda, altrimenti il risultato, perché non avevano abbastanza soldi, e allora, l'unico attore un po' conosciuto, così pompato, che potesse rendere l'idea che non fosse un wrestler, era proprio Michael Clark Duncan, il compianto, John Coffey, di Emilio Verde, e il punto qual è? Il punto è che, io rimasi un attimo a stare dentro, perché dissi, scusate ma, ma Kingpin non è a f***o, e uno può dire, vabbè ma, chi se ne frega, non si tratta di whitewashing, né niente, non si tratta di nessun tipo di washing, semplicemente, era l'unico attore, che la gente avrebbe riconosciuto, ad avere la fisicità giusta, perché poi Kingpin in realtà non è pompato, è sotto gli strati di lardo, ha i muscoli, però di base si presenta come un uomo molto molto grosso, cioè non, la prima cosa che pensi quando lo vedi, non è un come muscoloso, pensi mamma mia com'è enorme, però vabbè, quello passato il convento, Michael Clark Duncan è anche un bravo attore, il problema è che, per l'appunto straniva, perché ti chiedevi, ma perché hanno dovuto cambiare l'etnia di Kingpin? Cioè, anzi, il fatto che Kingpin sia, caucasico, è importante perché è la rappresentazione del riccone bianco che può fare, che pensi di fare quello che vuole, è proprio l'emblema del potere, se tu pensi all'emblema del potente che fa il cazzo che gli pare, te lo immagini opulento, caucasico, ok? E questo perché, però appunto è proprio lo stereotipo dell'uomo bianco potente, cioè c'è anche questo in Kingpin, capito? visto come qualcosa di negativo, però, se tu me lo fai afroamericano, si perde un po' il concetto, ma non perché un afroamericano non possa essere potente, ma perché viene meno lo stereotipo, capito? e soprattutto non c'era un motivo manifesto per il quale avrebbero dovuto cambiare l'idea, ma era il meno in realtà, quello era il meno, vi devo dire la verità. Poi, nel Daredevil, nella serie Daredevil di Netflix, avrebbero preso Donofrio, che non è che sia enorme, gigantesco, ma rendeva l'idea in maniera perfetta, il suo Kingpin è qualcosa di meraviglioso, quindi al di là di Michael Clark Duncan, che comunque a me piacque anche, perché l'interpretazione ci poteva stare, il film era un casino, con Ben Affleck, che già non ha questa espressività meravigliosa di suo, in più, doveva anche far finta di essere cieco, e quindi il risultato era un personaggio carismatico, quanto una lastra di granito, se avessero messo un basalto in scena con il costume Daredevil, probabilmente l'effetto sarebbe stato lo stesso, e la storia era una cagata incredibile, ma andavano per uccidere Daredevil Bullseye, ora, io capisco che Bullseye è un personaggio fumettistico, che già di su e sopra le righe, però cazzo anche meno, Colin Farrell che lo interpretava, rinnega ancora il ruolo, peraltro lo misero in scena con questo cappotto, che sembrava quello di Kakiara, di E.C. The Killer, ma di un altro colore, calvo, con il bersaglio inciso in fronte, cioè, io vi giuro, ogni volta che lo vedo penso, ma perché Colin Farrell, ma aveva bisogno di pagare le bollette, ma che cosa fa, perché? Era veramente, ragazzi, terribile, terribile, cioè, si era dimenticato come si recitava, era sopra le righe, ma la scena finale, di Daredevil, che lo pone nella traiettoria, gli pone le mani nella traiettoria, del proiettile che è stato sparato dai poliziotti, gli buca le mani, e vedete lui che dice, le mani, cioè, io penso che ogni volta che Colin Farrell riguarda quella scena, pensa, ma perché l'ho fatto? Sono cose che ti segnano la vita, sono cose brutte, porca puttana, ma brutte veramente, quindi, non lo so, poi, Ben Yurick era interpretato da Joe Pantoliano, cioè, era il periodo di Joe Pantoliano, già un po' discendente, dopo Matrix, dopo Il Soprano, quindi, quindi, non lo so, io non so che cazzo sia preso, a Joe Pantoliano, però veramente no, Cristo Santo no, anche lì, perché, cioè, Joe Pantoliano come in giro a fare, il giornalista come in giro a fare le domande, peraltro, per niente in character con Ben Yurick, secondo me, e il film era disastroso, sotto ogni punto di vista, le poche scene con la CGI, sono quelle in cui, ti mostrano come lui vede, ok, la sua visione è fatta veramente male, cioè, sono riusciti a renderla molto meglio, con meno dispegno di CGI, nella serie Marvel Netflix, che aveva un budget nettamente inferiore, quindi, perché avete fatto una cosa del genere, non lo so, ma soprattutto, la mia domanda è, perché Daredevil ha generato il film successivo, di cui voglio parlare, cioè, Electra, ora, Daredevil è stato un film abbastanza flopposo, non è stato apprezzato, è stato massacrato dal pubblico, è stato massacrato dalla critica, loro cosa dicono? Oh, è andato una merda, e allora Daredevil è con lo spin-off su Electra, ma che cazzo vi dice il cervello? Davvero, cioè, com'è possibile? Io voglio sapere, io a volte vorrei avere il potere, di, una cosa tipo, il pensatoio di Harry Potter, poter, proprio andare indietro nel tempo, come, proiezione astrale, e assistere alle riunioni, di produzione, di certi film onnet, perché io voglio sapere, qual è stato il processo creativo che li ha portati a fare una cosa del genere, perché altrimenti io non lo so, cioè io, com'è andata? E in realtà loro dicevano, il film è stato una merda, secondo me risolleviamo gli animi, facendo uno spin-off sul personaggio, che peraltro è morto, ma, ok, il film si basa su lei, che risorge, su tutta la questione, della setta di combattenti, peraltro c'era anche un nemico, neanche mi ricordo come si chiamava, che muoveva i tatuaggi sul suo corpo, peraltro, sai, che se Daredevil è andato male, non ti stanzieranno un budget, neanche lontanamente, simile a quello, e già quello era basso, ma come cazzo è puoi, sapendo di avere un budget basso, o comunque relativamente basso, mettere in scena un personaggio, che fa uscire i tatuaggi dal corpo, cioè ci vuole un impiego di CGI, che peraltro erano comunque i primi anni 2000, devi anche, bisogna anche considerare che all'epoca la CGI non era come quella di adesso, quindi già la CGI non era convincente di suo, nelle produzioni a budget basso, ok, tu basi un intero, un intero villain, su un effetto visivo fatto male, cosa cazzo ti dice il cervello, come hanno potuto pensare, che questa cosa avrebbe potuto funzionare, che cazzo, no ragazzi io veramente, no davvero, cioè è proprio questo, io voglio, io voglio assistere in proiezione astrale a quel cazzo di meeting, io voglio saperlo, secondo me qualcuno si è in ginocchiata e ha detto vi prego, vi prego, mi hanno detto che se non faccio questo film mi spezzano le ginocchia, oh no aspetta lei ti facciamo un favore, perché altrimenti io non capisco come abbiano potuto pensare, di orchestrare una monnezza del genere, ragazzi ma è roba da far sudare, peraltro Jennifer Garner che in quel momento si è dimenticata, completamente che cosa sia la recitazione, perché, ma perché neanche lei aveva voglia di stargli dentro, ma che cazzo gliene fregava, di stare in quel monnezzaio, no, che peraltro se non sbaglio, lei e Ben Affleck si sono conosciuti sul set di Daredevil, poi si sono sposati, poi hanno divorziato, ma sono stati insieme per lungo tempo, poteva essere l'occasione di Jennifer Garner quella, non lo so, secondo me anche lei sapeva che non era la sua occasione, ma voleva lavorare, evidentemente ha detto meglio lavorare in un film del cazzo, che non lavorare proprio, secondo me non è stata una scelta azzeccata, e adesso vi propongo un'infilata non indifferente, il primo Fantastic Four, ok, è lo stesso discorso, era il periodo in cui tutti volevano la loro fetta della torta, ok, non si sapeva ancora cosa fare dei cinecomi, che era la prima fase del fenomeno in epoca contemporanea, ormai sono già passati un po' di anni, e allora sotto con i Fantastic Four, piccolo fan fact, negli anni 90, era il 94 se non sbaglio, cercarono di fare un film sui Fantastic Four, con un cast prettamente televisivo, budget di 3 milioni di dollari, che neanche ci paghi il cachet di un attore di fascia media, con 3 milioni di dollari, e era venuto una merda, con la cosa che sembrava un rettiliano, Reed Richards, che era palesemente un tizio con il bianchetto ai lati, qua della testa sui capelli, per far vedere che aveva le basette distinte, una roba terrificante, si trova proprio nei meandri del web, perché non era neanche uscito in sala, e questo film esiste e non esiste, cioè qui non stiamo neanche parlando di pirateria, cioè proprio una cosa che non ha neanche avuto mercato, è un cimelio, cioè riuscire a vedere questo film è un onore, esistono delle copie bootleg in VHS, introvabili, si trovano su certi siti tipo Ebay, ma più scrausi, a delle cifre astronomiche, se si trovano, quindi è proprio un piccolo giochino del trash, una roba ragazzi, qua non è neanche da recensione incazzata, lì è proprio che ogni tanto all'inferno, per farmi un favore, cambiano da Nicolas Cage che piscia fiamme ad alcune scene di quel film, giusto per cambiare un po' soggetto, però siamo allo stesso livello di, no anzi è peggio di Ghost Rider, è proprio una roba nata male, ok, ci hanno riprovato anni dopo, con per l'appunto un cast un po' rinnovato, John Grufford, un attore mezzo conosciuto, mezzo no, che avevamo visto anche in Titanic, in un ruolo minore, c'era Michael Chiklis, direttamente da The Shield, insomma, diciamo che c'era Jessica Alba, Chris Evans prima di diventare Capitale America, però l'unica veramente conosciuta all'epoca, no gli unici anzi, erano Jessica Alba, per varie serie come Dark Angel, qualche altro film che aveva fatto, e Michael Chiklis per The Shield, quindi provenienza prevalentemente televisiva, Chris Evans non è che avesse fatto molto, anzi era uno dei suoi primi ruoli veramente importanti, e quindi sì, lo hanno fatto, ma ragazzi era un pianto quel film, c'era anche Julia McMahon, la star di Nip and Tuck, il dottor Christian Troy, che doveva interpretare il dottor, il dottor del cinema ha veramente avuto una sfiga terribile al cinema, perché Julia McMahon è anche bravo, però ragazzi, porca puttana, era un cazzo di Big Gene viziato, che poi quando c'è, oh no, la mia faccia è sfregiata, devo mettermi la maschera, poi quando ti fanno vedere come lo sfregio, ha una reghina qui, è una reghina qui metallica, però lui era molto vanitoso, per lui era uno sfregio, però il dottor del cinema viene sfregiato male, perché devi fare che c'è le, c'è tipo i segnetti, rendi il fatto che è stato sfigurato come qualcosa che veramente lo devasta psicologicamente, oltre che fisicamente, non che fa vedere tipo la reghina e dice, oh no, sono un mace, che cazzo, cioè sicuramente, nel senso, ora io non è che, per l'amore del cielo, c'è chi potrebbe effettivamente stare molto male per un segno sul viso, ci sta, lo capisco, ma addirittura, che quello ti diventa uno dei motivi principali per cui vuoi conquistare il mondo e farla vedere a tutti, mettendoti un mantello verde con cui sembri un coglione, col cappuccio e la maschera di metallo, mi sembra un po' eccessiva come reazione, quindi no, quel film ragazzi era bruttissimo, peraltro la cosa realizzata male, cazzo, ma quanto era brutta la cosa in quel film, ma poi hanno fatto Fantastic Four e Silver Surfer, con Doug Jones che interpretava Silver Surfer, che faceva schifo, ma meno del primo, meno del primo, perché ad esempio, lì avevano capito una cosa, Galactus, non lo potevano rappresentare come nei fumetti, sarebbe sembrato un coglione e quindi ti fanno la nube di fumo cosmico che si aggancia ai pianeti e gli risucchia, secondo me come reinterpretazione poteva anche starci, avevano capito che non potevano fare quello che volevano, quindi il secondo, è brutto ma non come il primo, il primo aveva poi degli effetti visivi, mi ricordo il primo effetto con Mr. Fantastic che si allunga, che rimane tutto moscio, perché ancora non sa usare bene i poteri, era qualcosa di terribile, quando fa passare la mano sotto la porta, Cristo santo, io lo ripeto, ma se non hai il budget, ma non fare il film in quel modo, perché porca puttana no. E anni dopo, è uscito un altro film sui Fantastici 4, quello che doveva essere il rilancio del brand al cinema, ed è Fantastic Four di Josh Trank, allora non si è capito esattamente cosa sia successo in quel caso, Josh Trank deve aver avuto un crollo nervoso, dirigeva gli attori in maniera assurda, ad esempio, chiedeva loro di sbattere le palpebre in determinati momenti, aveva affittato una casa durante il periodo delle riprese, e il padrone di casa si era incazzato perché i cani l'avevano devastato, i cani Josh Trank, e lui per tutta risposta ha fatto trovare al padrone di casa tutte le foto che c'erano nell'appartamento di lui con la famiglia, con gli occhi grattati con una chiave, quindi non ha letto l'impressione, non so che cazzo è successo, era stato scelto perché il suo Chronicle, che non era realmente un cinecomic, ma ne aveva un po' l'aspetto, si riferiva molto all'ambito fumettistico, e il film è terribile, più che altro non è neanche un film, cioè si vede che è tagliato, manca la parte centrale, dall'introduzione si passa direttamente al finale, ragazzi è bruttissimo, peraltro c'erano Miles Teller, Katie Mara, c'era Jamie Bell, Billy Elliot, che interpretava la cosa, peraltro la cosa, quando si trasforma in qualcosa di, porca puttana, sembra un cereal X con gli slip, le merendine o cereal X, comunque sembra quella roba lì, un aggregato di briciole gigante, Toby Campbell che interpreta il Dottor Destino, che se possibile è peggio di quello di Julian McMahon, peraltro la cosa bella è che, lui rimane intrappolato su questo pianeta, il cosiddetto pianeta zero, che sarebbe la zona negativa, ma non avevano i diritti per chiamarlo zona negativa, era rimasto intrappolato lì, torna tempo dopo con la tuta spaziale, fusa al corpo, e quindi per dare un po' l'idea della maschera del Dottor Destino, già quella è una cosa schifosissima, bruttissima da vedere, proprio visivamente orrendo, ma soprattutto torna con questo mantello, verde col cappuccio, il solito, il problema è che, la prima cosa che io mi sono chiesto, quando torno così, è, ma il mantello dove cazzo l'ha preso? Era un pianeta deserto, non poteva esserci un mantello, torna col mantello, e io lì dicevo, ok va bene lì la sospensione in crudità, ma come ha fatto a non pensare, che non poteva avere addosso sto cazzo di mantello, la scena della trasformazione è grottesca, ma in maniera sbagliata, cioè fa proprio cagare, non è grottesca bella, è grottesca brutta, e credo questo seriamente uno dei cinecomic, ma dei film in generale più brutti, con un budget dignitoso che abbia mai visto, cioè non so come abbiano fatto a renderlo così brutto, hanno anche dovuto rigirare delle scene, c'è Drew Goddard che è stato chiamato a rigirare delle scene, perché il film era un disastro, a niente è servito naturalmente, io mi chiedo cosa possa essere andato storto, porca di quella puttana, io ero allucinato nel vederlo, e quando sono uscito dalla sala non ci potevo credere, sapevo che non fosse un bel film, lo dicevano tutti, ma mai mi sarei aspettato un simile crollo, soprattutto da parte di Josh Trent, che comunque con Chronicle aveva fatto un buon lavoro, veramente un film di una bruttezza imbarazzante, Cristo. Ora, a me piacciono i film sugli X-Men, però purtroppo andando avanti c'è stato un calo anche negli spin-off, ad esempio Wolverine le Origini e Wolverine l'Immortale, entrambi James Mangold, e Cristo santo che brutti, allora in Wolverine le Origini hanno proprio fatto un casino già con le timeline, cose che non tornavano, effetti visivi terribili, quando spuntano gli artigli a Wolverine, io ogni volta pensavo, ma perché sono fatti così male? Sembrano disegnati. Cioè, capisco che non è X-Men, ma è una cosa a parte, ok? Ma perché nei film sugli X-Men gli effetti visivi erano convincenti, e nel primo spin-off su Wolverine facevano così cacare? Brutti, poi per l'anno del cielo, di quel film l'unica cosa che si salvava era Liv Schreiber, ma a parte quello era veramente un filmaccio, mi ricordo c'era a un certo punto, se non sbaglio, William che interpretava Blob, che l'Origino si trovava ingrassato a caso, cioè non è che dici, è un suo potere, no, è ingrassato a cazzo di cane, perché dovevano mettere Blob nel film? Ma perché? Poi, poi vabbè ragazzi, è il film in cui c'è Ryan Reynolds, che interpreta Wade Wilson, che diventa il villain finale, cioè quel Deadpool con le spade che riusciano dalle mani, con la bocca cucita, che sparava i laser dagli occhi, e peraltro fu un film molto particolare, perché all'epoca in tanti mi chiesero di recensirlo, ma ha degli effetti visivi che fanno uno schifo, ci sono dei momenti in cui sembra che abbiano lasciato i modelli, la CGI non c'è proprio, c'è solo il modello in 3D, ma io ho detto, ma è mai possibile questa cosa? Vado al cinema, ed effettivamente, gli effetti non erano belli, ma non erano neanche quella roba improponibile, che mi dicevano tutti, scoprì poi, che molte persone, se l'erano guardato in streaming, e in streaming girava la cosiddetta versione workshop, senza gli effetti visivi finiti, ma per, senza gli effetti visivi finiti, intendo dire che proprio non esisteva l'effetto visivo, c'era proprio il modello 3D grigio, oppure in certe scene c'era lui che si vedeva che era appeso dai cavi, quando doveva saltare in maniera esagerata, e io vi giuro, quando la scena della battaglia contro il suo fratello, Liv Schreiber, nel film interpretato da Liv Schreiber, Victor, e che era Sabretooth, tra l'altro, che era già comparso peraltro negli altri film, ma fa niente, non importa, la cosa divertente era proprio che, come cazzo fai a pensare che sia così? non ti fai due domande? Cioè, questa cosa mi ha fatto morire da ridere, e ero piegato in due, perché io non avevo guardato gli streaming, non capivo cosa intendesse la gente, poi ho scoperto questa cosa, e ho detto, ma porca puttana, cioè, ma fate due domande, vai a fare una ricerca su Google, paradossalmente siamo nel periodo in cui abbiamo tutto il sapere umano a portata di click, ma nessuno ha voglia di sfruttarlo, e mi fa pensare, una volta la libreria di Alessandria sembrava la più grande fonte di sapere umano, adesso che abbiamo una fonte di sapere, su tutto, anche le stronzate, che in confronto la libreria di Alessandria impallidisce, non la usiamo, fa ridere questa cosa, ma vabbè, al di là di questo aneddoto, il film era proprio brutto, secondo me non brutto quanto Wolverine l'Immortale, Wolverine l'Immortale era proprio una merda, cioè, era un film che trasponeva malissimo il ciclo di fumetti da cui era tratto, con Hugh Jackman, che non ci credeva neanche lui, Aya Manucci, che interpretava Silver Samurai, peraltro, Aya Manucci è un attore che è molto attivo in Italia, è il doppiatore della 90% dei personaggi asiatici nei film, da Watanabe a Cho'Yoon Fat, è sempre lui, ok? Anche la, è anche la voce degli spot della, della Suzuki mi pare, e è anche attore, però appunto, ed era, ad esempio, un ruolo in cui tutti lo ricordano in Italia, era quello dello capo Yakuza in tutti gli uomini del deficiente, fin della jalappa, per intenderci, per cui boh, io ero lì che pensavo, ma perché? Cioè, perché farlo così male? I ninja, e vabbè, ok, mi è tolto in Giappone, d'accordo, però, mi metti ninja, mi metti i tizi che vanno in giro, gagliardi in moto, questo tizio che non vuole morire, non vuole invecchiare, e quindi deve prendere il fattore di rigenerazione di Wolverine, strada, gli artigli, l'unica cosa buona di quel film era la scena girata da Bryan Singer sul finale, che era l'introduzione a X-Men Days of Future Past, era l'unica cosa che funzionava di quel film, perché per il resto, io lo ricordo con grandissimo, grandissimo sdegno, magari qualcuno non sarà d'accordo, né su Wolverine, Wolverine Origini, né su Wolverine l'Immortale, per me sono due filmacci, cioè rispetto al livello degli altri film su X-Men, porca puttana, e passo anche a X-Men al terzo conflitto finale, che di base era il peggiore dei tre, secondo me non è così orrendo, ma lo voglio citare, perché non fu girato da Singer, ma da Brett Ratner, per un motivo che adesso vi spiegherò, e quindi boh, io francamente sono rimasto abbastanza allibito, per quanto all'epoca mi divertì anche, quindi non lo considero un film orribilissimo, più che parlarne lo sto citando, quindi non è propriamente inserito nella classifica, però volevo accennarlo, io non lo trovo così brutto, vi dico la verità, e poi veniamo al motivo per cui Bryan Singer, non ha di fatto girato lui, X-Men conflitto finale, era impegnato con Superman Returns, allora, negli anni 2000, decidono, e questa è una cosa che non mi spiego, di fare un nuovo film su Superman, anzi questo me la spiego, ci sta, un film, i cinecomici iniziavano ad andare forte, volevano fare un film su Superman contemporaneo, perché bellissimi, quelli di Donner o di Lester, pur con i loro difetti, ma ormai datati, invecchiati parecchio, cosa fanno? Prendono Brandon Rouse, poverino, che ci stava esteticamente come Superman, e di base, di base, è il Superman dei film di Donner e Lester, e io dico, ma come? Cioè, quello era una reinterpretazione di Superman, molto figlia degli anni 70, dell'epoca in cui il film uscì, e successivi, no, loro vogliono fare quel Superman, ok, con, come villain, Lex Luthor, interpretato da Kevin Spacey, lo stesso Lex Luthor, dei primi film, il Lex Luthor, coglione, il Lex Luthor, sopra le righe, il Lex Luthor, macchietta, cioè, hai la possibilità, di riportare Superman al cinema, e mi riporti quel Superman, cazzo, ma cosa ti dice il cervello anche qua? E lì, poi Singer ci ha provato, ma il film è proprio brutto, ha delle scene, che sono, assurde, l'unica che mi è rimasta impressa, è quella, con il rapitore, del bambino, del figlio di Loise, e di Clark, che si mette a suonare, il pianoforte, si toglie la, la cuffietta di lana, e ha una, un volto, cattivo, tatuato sulla pelata, ma a parte quella scena, che effettivamente, era Singer allo stato puro, io per il resto, ho visto un film, veramente immondo, cioè proprio un film, a parte che era una rottura, di coglioni, infinita, noiosissimo, la questione, il piano di Lex Luthor, di prendere la criptonite, di, 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 di creare, un'isola, fatta di criptonite, doveva affrontarlo, e batterlo, è proprio un piano, da cattivo, da b-movie, degli anni 50, cazzo, ma è proprio, è proprio, è proprio il finale, con lui che si trova, con la sua, scagnozza, sull'isola, e, perché l'elicottero ha finito la benzina, e pensano di mangiarsi il chihuahua, ma che cazzo di finale è? Cioè, non ti funziona un Lex Luthor, figlio degli anni 70, negli anni 2000, ma come, come hanno potuto pensare, di riportare, la regola di base, vuoi riportare, vuoi rilanciare un franchise, su cui ci sono già stati altri film, non importa di quanto tempo, di tempo, non importa di quanto tempo siano, i film, a quanto tempo risalgano, ma cazzo, devi cambiare tutto, rifallo da zero, poi non è detto che rifacendolo da zero, ti funziona, però, porca vacca, no, santo Dio, no, 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 non funziona, poi Brandon Routh, è andato a fare Dylan Dogg, nel film Dylan Dogg, Dead at Night, e il resto è storia, mi è spiaciuto perché Singer è un regista, che io adoro, però cazzo qua no, qua ha proprio toppato, è il turno di un film di Mark Dippe, parecchio datato, è un film comunque, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, che è Spawn, ora, io amo Spawn, io ho il primo numero originale, autografato da Todd McFarlane, che custodisco gelosamente, in una busta di plastica, in un sotterraneo, dietro ad una porta, sorvegliata, da due Uruk-hai, ok, che sono lì cattivi, con la mano bianca di Saruman, sul volto, che guardano e ringhiano, chiunque passi vicino, lo conservo gelosamente, magato anche poco all'epoca, adesso ha un suo valore, ma è uno di quegli oggetti, che a prescindere dal suo valore, col cazzo che vendo, perché c'è anche un legame affettivo, io lo amo, adoro Spawn, sopra ogni cosa, vederlo trattato in quel modo nel film, mi ha fatto male, budget basso, cast di attori, non particolarmente conosciuti, una storia rivisitata in maniera pessima, l'unica cosa che funzionava di quel film, era il clown, peraltro c'era anche Malabolgia, ma Malabolgia di base, non era stato sfruttato più tanto, perché nei momenti in cui compare, è orrendo, va bene che ok, all'epoca la CGI non era sviluppata, ma oltre al fatto che non era sviluppata, c'era anche da dire, che era proprio di merda di base, perché CGI di film dell'epoca, sicuramente ci sono delle CGI in altri film, che sono decisamente migliori, adesso basti pensare a, non lo so, Jurassic Park di Spielberg, le scene con la CGI sono mostuose, però ovvio si trattava di budget diversi, e di pesi differenti, per ciascuno di questi due film, il problema è che io non mi aspettavo una CGI alla Jurassic Park, no, ma neanche una CGI come quella, con Malabolgia che praticamente, aveva sempre la bocca aperta, e le poche volte che parlava, non muoveva la bocca, è un po' tipo, ah, eh, sei arrivato qui, sei fatto, uguale, ok, solo che articolava meglio le parole, ma siamo lì, di fatto il vero villain era il clown, la scena in cui li tagliano la testa con la catena, è una merda, cioè veramente io ce l'ho ancora in mente, quanto era brutta, e di base il film era orribile, lui quando non indossava il costume completo, con la maschera, sembrava, sembrava Freddy, sembrava la versione pezzotta di Freddy Krueger, ragazzi, quella al Simmons è qualcosa di terribile, io ogni volta che lo riguardo penso, porca puttana, e da anni si parla di un altro film di Spawn, c'è Todd McFarlane che una volta ogni tanto twitta, finalmente siamo in produzione col film di Spawn, e poi non si sente un cazzo per anni, quindi io spero che lo mettono in produzione un film su Spawn, cazzo, a me piacerebbe tantissimo, ma non so quanto sia probabile, si parlava di una serie su Sam e Twitch, che è una sorta di spin-off, erano i due detective compagni di Spawn, che avevano una loro serie regolare, e pare che tra le altre cose era ufficiale la notizia per cui Jeremy Randall sarebbe stato Twitch, ovviamente fa ridere, adesso che tutti conoscono la piattaforma fa ridere che questo si chiami Twitch, però è così, e quindi fondamentalmente sì, il film era veramente una merda, cioè era proprio brutto ragazzi, io non so se avete mai guardato Spawn, ma provate a farlo, io mi ricordo ancora quando davano fuoco al Simmons, che c'era il tizio che aveva il fucile, aveva il fucile che sparava normalmente, ma poi aveva sotto una bocchetta che faceva uscire la benzina, comunque un liquido infiammabile verde, e questa cosa mi ha sempre fatto troppo fumetto Golden Age, una merda totale, però vabbè, budget basso, film di tanti anni fa, posso capire che facesse schifo, però, o è un cinecomic, è orribile, si merita di stare qua dentro. A un certo punto, si decise che era il momento, di portare sul grande schermo, Catwoman, ma siccome volevano fare un film solo su Catwoman, prendono Ali Barry, si chiama Patience, e non Selina Kyle, e di base, il personaggio non c'entra un cazzo con la Catwoman dei fumetti, non c'entra veramente una sega, storia orribile, recitazione, che neanche vi sta a dire quanto sia brutta, Villain interpretata da Sharon Stone, che è questa tizia a capo di un'azienda di cosmetici, che utilizza sostanze chimiche non ortodosse, continua a utilizzare questo nuovo prodotto, e scopre che il prodotto le dà la resistenza alla pelle incredibile, cioè questa cedera che spacca il bicchiere, e non si fa niente, anzi i vetri scivolano sulla sua mano. Salve Ambulanza, di base era un film veramente brutto, ma quando dico brutto, intendo proprio una di quelle cose che lo guardi, e desideri di poter improvvisamente acquisire poteri di teletrasporto, e teletrasportarti in un vulcano attivo, piuttosto che rimanevi lì, cioè tu istantaneamente ti pensi, oddio no, che ti teletrasporti in un luogo di sofferenza, ok? Perché non si può vedere una roba del genere, cioè anche qui, produttori, ma perché? Ma come avete potuto pensare, che un film su Catwoman, in cui non c'è la Catwoman che tutti vorrebbero, in cui Cristo Santo, la cattiva è una rincoglionita, che si usa la cipria superpotente, e quindi ha la superforza, ma che cosa cazzo diceva il cervello a sta gente? No, io adesso voglio sapere il cervello cosa minchia gli diceva. Cazzo! Cioè ma non ci vuole un genio, anche solo in fase di soggetto, per capire che un'idea del genere è stronza! Ma no, Catwoman uscì, creando incubi seriali a tutti i malcapitati, che vedendo il nome del personaggio, pensarono, ma sì, andiamolo a vedere, Cristo Santo che botta! Torniamo ai film su X-Men, dopo Days of Future Past, secondo me hanno fatto un casino, perché Days of Future Past era bellissimo, poi hanno stravolto completamente la continuity, con Apocalypse, ok? A un certo punto non capì più, c'erano quelli vecchi, quelli più giovani, non capì più un cazzo, Apocalypse, X-Men Apocalisse, è un film orribile, ma veramente orribile, peraltro c'è la scena in cui X-Men perde i capelli, che è sul lettino mentale, come lo chiamo io, e si sforza troppo per stare in connessione con l'Apocalisse, e perde i capelli, cioè io lì che dicevo, ma che cazzo! Tra l'altro, la questione della continuity è importante, perché Apocalisse è ambientato, mi pare, una cosa come tipo 12, 13 anni prima, rispetto agli X-Men che tutti conosciamo, e la cosa divertente è che Xavier e Magneto sono interpretati in Apocalisse, sempre da McAvoy e Fassbender, nel giro di 10-12 anni, questi dovrebbero diventare Patrick Stewart e Ian McKellen, mi fa tanto ridere, che tragollo brutto, già questo mi fa incazzare, perché vedete, vabbè, no vabbè un cazzo, la continuity, se vuoi creare un universo, lo devi fare bene, la continuity è importante, cazzo, quindi, già questo mi faceva ridere, ma poi non era solo quello, Magneto, che era un personaggio, che negli altri, in X-Men all'inizio, il first class, e il deservizio pasta, era stato trattato benissimo, qua si è rifatto una vita, però scoprono che è un mutante, le persone in sostanza lo minacciano, minacciano la sua famiglia, muore la famiglia, lui, boom, impazzisce, ammazza tutti, e diventa uno dei cavalieri di Apocalisse, perché? Cioè, ma che cazzo di idea è? Peraltro, Oscar Isaac, che secondo me è un bravissimo attore, qui è come se non fosse stato utilizzato, non pervenuto proprio, quindi, ha solo una scena, che mi ha colpito, che è quella di lui, che smonta tutti i missili nucleari, con il camion di Stanley, su cui occhiali da sole si riflettano i missili, che partono, io veramente, quando ho visto quel film ho pensato, ma che cazzo sto guardando, brutto, qua non è neanche a ne cazzarsi, è proprio deludente, cioè dopo Days of Future Past, la merda, allora, prima e secondo X-Men, di Singer, bellissimi, tra i milioni di cinecomic di sempre, il terzo, vabbè, X-Men, le origini Wolverine, e Wolverine l'Immortale, pessimi, Days of Future Past, bellissimo, Apocalisse, Cristo che merda, Logan, film della Madonna, ma veramente, e infine, infine, ne abbiamo poi un altro, che ne parlerò, che è Dark Phoenix, che è più brutto di Apocalisse, ma tornando un attimo di Apocalisse, è un film inorganico, è un film noioso, in cui stravolgono tutto quello che si può stravolgere, peraltro, la cosa che mi fece incazzare, è che alla fine di Days of Future Past, noi vedevamo effettivamente, che c'era stato il reboot della continuity, una cosa che nei fumetti veniva fatta spesso, quindi c'era la continuity con Logan, che in realtà non è mai stato a Dharma X, perché sì, molti dicono, ma guarda che alla fine, lui veniva preso da Striker, non ti ricordi? No, alla fine di Days of Future Past, lui non veniva preso da Striker, Striker non era Striker, era mistica, e quindi si supponeva che l'avesse salvato, e invece poi in Apocalisse, c'è Wolverine, che scappa dal progetto Alma X, bestia, proprio subito dopo l'esperimento, e allora io mi sono detto, scusami, ma allora cosa l'hanno, perché l'hanno fatto? Cioè cosa l'hanno fatto a fare il film, in cui c'è il reboot della continuity, con Jean che è ancora viva, e tutto che è a posto, cioè perché? Questa cosa poi non la tirano più fuori, ma per quale motivo? E questo mi ha fatto incazzare, quindi per me non è un film orribile, è un film brutto, un film deludente, porca puttana, ecco Dark Phoenix è proprio brutto, Sophie Turner disse, pensate che lo abbiamo girato, lo abbiamo sceneggiato giorno per giorno, e tesor gara, ma si vede pure, è una merda, anche questo è come i Fantastic Four, non ha la struttura di un film, non ha la parte centrale, si vede che le scene sono girate a caso, e sceneggiate soprattutto a caso, si vede proprio che ormai, siccome la Disney stava acquistando la Fox, non aveva più senso neanche continuare, quindi il progetto è rimasto lì embrionale, l'hanno fatto, ma finita lì, morta lì, pazienza, bombe, lo facciamo e via, mi è spiaciuto tanto, mi è spiaciuto tanto, mi è spiaciuto per Apocalisse, perché cazzo, Singer aveva fatto un lavoro della Madonna, tornando sugli X-Men, e poi ha fatto Apocalisse, che è un film del cazzo, Dark Phoenix è una chiusura pessima, credo, della continuity, tra l'altro, quindi no, cioè, è una chiusura pessima di quell'universo, un universo che a un certo punto, è andato a biglia sciolta, nessuno lo controllava più, ha fatto il cazzo che voleva, sminchiando tutto, quindi per me, due film veramente, veramente bruttarelli, e li metto in questa classifica, perché, essendo una delle mie sagge cinematografiche, tra l'altro, le fumetti preferite, il fatto che me le abbiano rovinata così, me li fa mettere in questa, cioè, rientra nei peggiori di sempre, per la delusione che mi hanno provocato, Batman e Robin, beh ragazzi, dai, qua lo sappiamo, è Joel Schumacher, che è tornato su Batman, con Batman Forever, che non metto tra i peggiori di sempre, perché ce l'ho nel cuore, lo vedi da piccolo, mi piace un sacco, è un film di merda, sì, ma non di merda come Batman e Robin, lo sapete tutti, la bat carta di credito, poi già dal Forever, avevano i bat capezzoli, il bat culo anche, cioè, la tuta con la forma del culo, proprio perfetta, un gluteo e i sodi, in sette giorni, pensate, quindi gli addominali sul costume, era tornato alla parentesi, cioè sembrava un ritorno, alla parentesi camp degli anni 60, quella della serie culminata nel film del 66, oltretutto, c'era in Batman e Robin, Mr. Freeze, interpretato da Schwarzenegger, che era di una brutte, ragazzi, mi ricordo che la sua base segreta era, nella vecchia fabbrica abbandonata di surgerati, con i suoi scagnozzi, vestiti dai schimesi, che gli cantavano le canzoni di Natale, con lui con le pantofole, con il pupazzo di, la forma di pupazzo di neve, che cantava le canzoni, io ero piccola, quando lo vidi, e pensai, che cazzo sto guardando, per non parlare di Bane, l'aggello, che è la traduzione letterale di base, del nome del personaggio, che non è così nei fumetti, anzi è molto intelligente, non è un coglione stupido, che va in giro, con Uma Thurman nei panni di Poison Ivy, che per l'amor di Dio, vabbè, Batgirl, che era la nipote di Alfred, interpretata da Alicia Silverstone, ragazzi, ma quanto può essere una merda quel film, cioè, santo cielo, ma brutto, cioè, ma più che altro, sembrava proprio realizzato, perché, per essere un film di merda, hanno messo tutte le idee più stronze, quando gioca, gli scagnozzi di Fritz, che giocano a Occhi col divante, beh, la Batcarta di credito, penso sia una delle cose, con il commento, con il commento, mai uscire senza, George Clooney si sarà vergognato tantissimo, di aver fatto quel film, un po' come Tommy Lee Jones, che per Batman Forever, disse, cioè, tuttora lui rinnega, di aver fatto quel ruolo di due facce, lasciamo stare, quindi, il film era veramente una merda, però Batman Forever, lo salvo per l'enigmista di Jim Carrey, che è comunque tanta roba, per quanto fosse campo anche lui, ma Batman e Robin, porca puttana, che roba brutta, è veramente una roba brutta, capitata alla storia del cinema, cioè, è proprio, è proprio un brufolo, proprio, sull'interculo, una roba fastidiosa, è, ma andiamo avanti, vi prego, perché, brrrr, devo mettere dentro anche, la leggenda degli uomini straordinari, perché, perché, per quanto io da ragazzino lo apprezzai, riguardando, non mi sono reso conto che è una discreta merda, peraltro dovrebbe essere l'ultimo film, in cui è comparso, Sean Connery, quindi ha chiuso la carriera in bellezza, come si suol dire, e posso dirvi, e posso dirvi, che sono rimasto, sinceramente, allibito, perché non me lo ricordavo, così tanto brutto, soprattutto, se si pensa, che è tratto, dalla lega degli straordinari gentleman, che era un progetto, bellissimo, di Alan Moore, che ogni tanto, c'è ancora un volume, che voleva dimostrare, che non c'è bisogno, di supereroi, ma che, abbiamo tutto quello, che serve, per creare un gruppo di eroi, nella cultura letteraria, e non solo mondiale, e quindi, aveva messo insieme, alcuni dei personaggi, inventati e non più iconici, di sempre, ma non era quella roba lì, non era questa roba, orripilante, col dottor Jack, il alto 120, cioè largo 100 metri, che sembrava un disegno, di Ron Spencer, che è questo disegnatore, di anni fa, delle carte magic, una roba ragazzi, di una bruttezza rara, ve lo dico, molto molto rara, porca troia, con Dorian Gray, che poi era cattivo, che gli mostrava nel quadro, si sgretolava, c'era Tom Sawyer, il problema è che, dove nei fumetti, c'era un criterio, per cui avevano messo insieme, certi personaggi, qua lo avevano completamente, bypassato, mettendo insieme personaggi, che di base, non c'entravano neanche un cazzo, a livello di epoca, tra di loro, quindi, Alan Moore probabilmente, ha avuto un infarto, quando ha visto una roba del genere, credo che sia uno di quei, lui detesta in generale, che si traggano, fin dalle sue opere, ma quando, ha saputo di questo, l'ha visto, si è un po' dissociato, che neanche i peggiori streamer, di Twitch, proprio, mamma mia, povero Cristo, quella, quella che è una delle sue opere, più belle, interessanti, gli erano veramente massacrate, infilando un bastone nel culo, alla storia, cioè veramente ragazzi, porca puttana, poi lo so che qualcuno, potrà esserci affezionato, io, mi ci sono disaffezionato, molto in fretta, perché riguardando qualche anno dopo, ho pensato, ma porca troia, che merda, era una roba, avrebbero fatto un film dopo, che era Van Helsing, che era su quella falsariga, ma almeno Van Helsing, aveva un suo quid, era una minchiata anche quella, ma aveva un suo quid, La legge di nonno straordinaria, è proprio un film, ma poi è anche girato di merda, cioè anche girato male, per me è brutto forte, vi ricordate negli anni 90, quando stavano cercando di convincere il pubblico, che Shaquille O'Neal era un bravo attore, ecco sì, è successo veramente, al di là di Kazam, che penso sia uno dei film più eretici, nella storia del cinema, nel senso che è una delle cose più brutte, che si possono mai vedere, e che magari è una delle cose brutte, che avete mai visto, che abbiate mai visto, Still, tratto dal fumetto omonimo, che in Italia era tradotto con acciaio, un fumetto di sì minore, è credo una delle trasposizioni, più scioccanti, per quanto fanno cagare la merda, di un fumetto, perché veramente, è Shaquille O'Neal, in versione Iron Man della Lidl, lo ricordo anche abbastanza poco, perché ho cercato di, il mio cervello ha cercato di dimenticarlo, ha cercato di farlo diventare meno brutto, e anche così, le cose che mi ricordo sono orribili, mi ricordo che c'era lui che andava in giro con, se non sbaglio aveva un martello, comunque un'arma di metallo, con questa armatura, che era una roba brutta, ma ragazzi, ma vi giuro, proprio a livello di concept design, era una cosa orribile, con Shaquille O'Neal, che sicuramente si parla di un grande giocatore di basket, ma di uno degli attori peggiori, che abbiano mai calcato un set cinematografico, e te credo, non era il suo mestiere, molto semplicemente, ma rimani a fare canestri, rimani a fare punti da metà campo, non c'è bisogno che ti betti anche a recitare, e tra l'altro era il periodo in cui Shaquille O'Neal era un po' appesantito, quindi era strizzato in maniera orrenda in questa armatura di metallo, e sembrava veramente una parodia, io ero convinto fosse la parodia di qualcosa, e in realtà no, non era una parodia di nulla, era realmente la trasposizione di un fumetto esistente, ed è talmente brutto, io sono sicuro, la maggior parte di voi, o non l'ha visto, oppure ha pensato, oddio, perché il cervello aveva cercato di rimuoverlo, ma i residui di questa merda, ti circolano qua dentro, anche a distanza di anni, lo so che volevate dimenticare, ma io ho fatto questa classifica, perché certe uscirità, non venissero, dimenticate cazzo, The Punisher, con John Travolta, no, The Punisher Warzone uscito anni dopo, solo in un video, ancora ancora ci poteva stare, ma The Punisher con John Travolta, ragazzi è, Cristo che brutto, con John Travolta sopra le righe, tipo, ma sono i miei uomini, cioè a momenti ci mancava che facesse così, ma ragazzi, era veramente brutto come film, Cristo che film di merda, ma una roba, ma proprio un'oscenità di quelle rare, un'oscenità terribile, ok, brutta proprio, quindi, di base, diciamo che, io quando lo vidi, lo vidi al cinema tra l'altro, pensai, ma che cazzo, cos'è sta roba, ma non lo so, poi, non aveva trama, cioè la trama, sì, era quella di base, ma poi non aveva sviluppo, era girato veramente con due centesimi, una vigor sole, un elastico anche, giusto per fare l'orpello, e la, madonna ragazzi, non ho un ricordo pessimo, l'ho visto una volta sola, perché poi non ho mai avuto il coraggio di approcciarmi, perché perché avrei dovuto perdere del tempo, per guardarmi un film così brutto, e chi se lo ricorda sa, quanto fosse brutto, ho voluto inserirlo, non mi dilungo troppo, perché è troppo doloroso, anche perché non è neanche da incazzarsi, è solo da dire, minchia che merda, Ma ve lo ricordate il Captain America del 1990? Non ve lo ricordate eh? Era quello con lui, che praticamente non aveva neanche i poteri, che a un certo punto veniva salvato dall'amico, che arrivava col fulgoncino bianco, e lui saltava sopra, era un codardo terribile, e mi ricordo la famosa scena, dove stavano facendo l'esperimento, e arrivava il nazista che diceva, e si metteva a sparare a caso, con il teschio rosso che era fatto male, che ogni tanto si toccava la faccia, per sembrare umano, perché non volevano spendere per il make-up, e quindi il budget era inesistente ragazzi, un film che credo si trovi in qualche versione a un video, ma è una roba veramente brutta, di lui che aveva le alette, che sembravano fatte con la carta, dai bambini dell'asilo, ok? Col costume fedele a quello dei fumetti, ma era ridicolo, ed è il cap più caga sotto che abbiamo visto, peraltro c'è quella famosa scena, di lui che lancia lo scudo, che era palesemente un frisbee di plastica dipinto, un frisbee extra large, che andava contro un pilone di legno, cadeva, e mentre il disco cadeva, fuori campo qualcuno ne lanciava uno in campo, e tornava indietro, quindi era così, tum, con l'altro disco che stava cadendo ragazzi, va bene d'accordo, era un film che definire lo budget sarebbe un complimento, però c'è, c'è ed esiste, e voi dovete ricordarvi che esiste, ed esiste anche Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., un film sulla versione più classica, quella caucasica, dei fumetti prima dell'Ultimate, del personaggio, interpretato in questo caso da David Hasselhoff, sì, proprio quel David Hasselhoff, e io francamente, credo che sia una delle cose più brutte, che il vostro cervello potrebbe mai processare, difficile da trovare, ma si trova, ed è orribile, recitato male, con lui che era palesemente, sempre sbronzo sul set, cioè si vedeva proprio, che non c'era voglia di star lì, voleva stare in una vasca da bagno con i cubetti, a rinfrescarlo di ghiaccio probabilmente, villain che vabbè, neanche sto a dirvelo, mamma mia, regia terribile, ecco, sapete cosa sembra? Costantemente, guardando questo film, voi penserete, ok, ma quando iniziano a trombare? Perché sembra una parodia porno di un film sui supereroi, pensate sempre che a un certo punto qualcuno tiri fuori il cazzo, e ha quella qualità lì, ha proprio la qualità del porno più becero, è una roba, ragazzi è una roba, mamma mia, brutto ma brutto 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 brutto, per cui recuperatevelo per fare due lesate, perché veramente, voi se non l'avete visto non avete idea, dei livelli di trash involontario che raggiunge questo film. Allora, avrete notato che non ho inserito, fin da 9, 6 antichi universe, perché ho già fatto la classifica, che parlavo di quelli peggiori, per cui, non volevo rendere questo video gigantesco, andate a recuperarvi con la classifica, così sapete di quale mi frisco, ma ci metterei dentro sicuramente Thor The Dark World, Iron Man 3 no, perché non è piaciuto a me, però non lo definirei un film orribile da stare in una classifica come questa, poi ce ne sono l'ulca del 2008, quello di Louis Leterrier, bruttissimo quello, secondo me, forse non proprio da questa classifica, ma siamo lì, comunque ci sono film di massimo di più diverse, che si meritano di stare in questa classifica, sono quei due, però siccome l'ho già parlato diffusamente nell'altro video, non volevo ripetermi troppo, ma concludo questo video con Batman v Superman, che sapete che a me non è piaciuto, ma neanche un po', per tanti motivi, ma non voglio parlarne troppo, perché devo fare la classifica dei film della DC, dal peggiore al migliore, e quindi il film sarà lì dentro, non è un segreto che a me faccia cagare, per me hanno sminchiato completamente la figura di Batman, figuriamoci quella di Superman, è veramente un pastrocchio terribile, quindi ce lo metto proprio a bomba, lo cito, ma è dentro, solo non ho voglia di dilungarmi troppo, perché ne ho parlato così tanto, e devo già parlarne in quella classifica, che francamente non mi sembra il caso di dedicargli troppo tempo, avrei voluto mettere meno still, ma per quanto a me non sia piaciuto, non è forse tra le cose più brutte, che siano state fatte con un cinecomic, per cui direi che possiamo chiudere qui questa listona, per cui io vi invito a scrivere un conto qui sotto, se ci sono dei film che magari mi sono dimenticato, o a cui non ho pensato, così ci divertiamo un po', ditemi quali sono i peggiori secondo voi, se vi trovate d'accordo, se non vi trovate d'accordo, io vi abbraccio, grazie a tanto, ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo movieblog, ciao a tutti.